Ciao amici, questo è Klaus e oggi siamo con Suryal, Sasha e Sabrina E stiamo andando a Courmayeur, per sciare, non so questo verbo Ora abbiamo mangiato e siamo pronti Abbiamo una grande fatta coca come ninja Cosa stai facendo, mio bro? Quello stronzo del ristorante che taglia il carne e il casco sui pantaloni E' un po' freddino e ora stiamo partendo per Courmayeur Credo che sarà divertente perché io non sono un cazzo d'inglese quindi avremo un po' divertente Siamo ora in l'automobile e quanto manca Sabrina? Stiamo iniziando adesso Cazzo mi significa adesso? Tudor sei il mio amore Ah che carino Anche un po' tu Sury sei il mio amore Mi chiamate amore Ma fai l'amore Grazie amore Quindi posso chiamarti amore per tutta la vacanza? No, tu no Come io no No, tu sei a parte, solo tra uomini Ma magari c'è il caso Tudor Perché fai il medio alla gente che poi mi fermano e mi vengono a prendere? Sì Sì Siamo solo arrivati Siamo arrivati a Courmayeur E' freddo E' freddo Sì Vediamo cosa succede Siamo ora al supermercato e prendiamo il cibo perché abbiamo fammi Cedrions, cedrions! Faccio ginnastica al supermercato, fai vedere quanto sono buoni Lei signora è capace a fare quello che faccio io? Uè, ci sono le 8.30 e quindi è dinnertime e let's go to see what the chef ha preparato Cosa è? Hamburguignon? Hamburguignon! In pratica, prendi la carne, metti in lì e poi metti Cosa pensi di Sori? Il maione e l'opinione è buono e va bene con una parte di 42 con Miss Italia Questa carne è molto buona e credo che chi ha inventato quello è una buona persona Sì! E ora, come si è fatta una certa Siamo pronti a dormire Buongiorno ragazzi Sono alle 9 e mezza e finalmente posso mostrare il paesaggio è davvero bello mi piace le montagne quindi mi piace questo paesaggio questa mattina andremo alla montagna quella ma lì c'è un problema io ero in il bagno e come lavo i calzini yesterday sera lì c'è uno lì e uno lì ma passando l'asciugamano uno di questi è cascato e indovinate dove è cascato oooh NERCESSO Yeah! Sì, siamo pronti per andare alla montagna Scusate, mi sento un linguaggio e faccio un linguaggio Sì, è anguilla Sì, sì, rosicate Rosicate, rosicate Sì, siamo pronti per andare a sciare anche se in realtà non c'è neve però è ok and let's go Ok, siamo arrivati a Des Moines ma è freddo della Madonna ma è divertente ma è divertente perché troviamo il snu quindi è molto bello ragazzi, è molto, molto, molto molto grande il problema è che sono uscito da casa in jeans e in sneakers quindi tutto il neve è entrata in i piedi e non è divertente wow Suri, what time is it? It's summer time ok, and now, dato che si è fatta una certa it's time to go home and we will, torneremo a casa by the Funivia by the Funivia ok, we are appena scesi by the Funivia eccoci in the car and now we are going in the center bambini eeeh ahhhh ahhhh happy buon anno ooooh ooooooh Ok ragazzi, finalmente siamo arrivati a Tom Siamo molto, molto stanchi Comunque siamo andati a sciare perché sciare è bello e mi piace sciare By the way vi auguro un nuovo nuovo anno Un nuovo nuovo anno Vabbè, capisci? Per me questo anno è andato alla grande E spero che il prossimo anno sarà meglio Comunque, un nuovo anno a voi, a tua madre, a tua padre e a tua famiglia E fatemi sapere in the comments if you like these kinds of videos E niente, see you presto, bella!